A proposito di cinema, è il podcast che insegue un'idea di cinema classico, un deposito di storie che ci sembra importante condividere. Iniziamo oggi una serie di podcast dedicati al volume Luci sulla città, Palermo nel cinema, dalle origini al 2000, curato da me per edizioni lussografiche e per AS Cinema, archivio siciliano del cinema. Un'opera assolutamente inedita che si pone l'obiettivo di apportare un fondamentale contributo alla diffusione e alla conoscenza del cinema soggetto che ha visto la città di Palermo, incluso il territorio compreso nella sua provincia, nel circondario, come set cinematografico per un intero film o solo per una scena. Il viaggio attraverso la lettura del libro Luci sulla città si declina all'interno di un'analisi approfondita, vista da diverse angolazioni, sicuramente nuove ed originali. una narrazione lunga un secolo, che inizia col cinema muto, quindi già dagli albori del 900, per concludersi nel 2000, attraverso 15 capitoli e 165 film scienziti, dei quali poi vengono forniti anche a chiusura del volume i dati tecnici, gli incassi e altri dati importanti, come per esempio l'elenco ragionato dei luoghi di ripresa. E ad ulteriore beneficio del lettore c'è anche una interpretazione, se vogliamo, didattica, scientifica e cine-turistica. L'introduzione del prefatore, Goffredo Fofi, offre sicuramente una prospettiva inedita. L'opera compie un percorso a ritroso nel tempo, descrivendo nei dettagli il ruolo dell'antica capitale della Sicilia, incastonata all'interno della settima arte, il ruolo che ne ha ricoperto, spesso ignorato, sia sul piano nazionale che su quello internazionale, già che parecchi film sono stati coprodotti con altri paesi. A testimonianza del rilievo che la città, che fu anche tra le protagoniste e la bell'epoca mediterranea, ha avuto per la cinematografia. E così i testi svelano un'epopea dei set palermitani sin dall'arrivo del cinematografo, che sbarca proprio a Palermo, ed esordisce appunto con gli apparecchi riproduttori dei Lumière e la genesi della prima casa di produzione siciliana, a Lucarelli Film, nonché anche lo sviluppo delle manifatture cinematografiche, le imprese di produzione, eccetera. E poi dall'arrivo del sonoro alle trasposizioni letterarie, che sono tantissime, la Palermo dei cineromanzi, ai film di cappe spada e ai film risorgimentali, continuando poi con le commedie, i mafia movie, i grandi cineasti, i polizieschi e gli anni di piombo, la primavera del cinema palermitano, anni 80-90, fino a Giuseppe Tornatore, poi Cipri e Maresco, Roberto Andò, Pasquale Scimeca, fino a un'analisi molto emotiva del maestro Marco Betta sulla musica nel cinema palermitano. Adesso leggerò un concentrato, un estratto dalla prefazione di Goffredo Fofi. E ci sono stati anche italiani, con una bella siloge di racconti pirandelliani, Chaos, già ricordato con due splendidi Franchi e Ingrassia, interpreti della Giara. E infine, più allievo loro, piuttosto che dei grandi del neuralismo, Giuseppe Tornatore, diventato con il graziosissimo Nuovo Cina Paradiso, regista da Oscar, ma il cui film più adulto e ambizioso, e siciliano, è indubbiamente Bahria, evocazione visionaria di una Sicilia di ieri, cantata con intensità non minore a quelle della meravigliosa storia fotografica che Fernando Scian ha dedicato alla stessa città, quelli di Bageria. E andrebbero qui ricordati gli altri grandi fotografi siciliani, quantomeno Sellerio e Battaglia. Non è legittimo dimenticare il posto che hanno avuto nella storia del cinema popolare italiano, quando ancora un popolo c'era, Franchi e Ingrassia, ereti delle antiche vastasate. Essi hanno ben meritato l'omaggio che ha reso loro Franco Maresco, come lo hanno meritato Letizia Battaglia, come lo ha meritato Franco Scaldati. Ci sono altri coraggiosi e originali protagonisti della cultura siciliana, che meriterebbero un omaggio, e direi più siciliana che soltanto palermitana. E fin troppo palermitana, come di solito avviene, a cavallo tra lo ieri e l'oggi. Con Cipria e Maresco si entra in una storia ancora viva e forte, e dura ed esemplare. Se Maresco ne è il punto più avanzato, autore di capolavori di immensa radicalità e originalità, non sono tuttavia da dimenticare documentari e lungometraggi di Roberta Torre, Emma Dante, Costanza Quatriglio, finalmente delle registe siciliane, e il del bravissimo Stefano Savona e i film più tradizionali e borghesi di Roberto Andò, eccetera. Perché la storia continua e se la Sicilia non è ancora riuscita a darsi, nonostante l'autonomia regionale e gli sforzi di più generazioni, delle strutture atte a sostenere una produzione locale, anche indipendente da Roma, è però indubbio che le ultime generazioni di cineasti si vanno dimostrando registi, attori, scrittori, tecnici, critici, quasi tutti però palermitani o fin troppo condizionati dal centralismo palermitano, molto più decise delle precedenti, senz'altro, e molto più sensibili all'indipendenza da Roma o dal continente. Grazie, alla prossima puntata. Grazie a tutti.